Questa è tanto, davvero, c'è un biglietto in corso. Ho preso l'orevole, fa tanto però, come stia, io lo prego. No, io. Grazie. No, no, no. Grazie. Dove vai tu, Marti? E allora, guardate il maschile, eh. Una mano attaccata sul bordo, l'altra mano a me. Vieni. Quindi, vai dalla schista di ferita. Sei sicura, non mi parlo di roma, tu lo volvi. ma se vuoi che ti dica no, no, no dove ci sono i più grandini va bene va bene, ok va bene 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 vai, vai Sofia, vai, batte i piedi, batte i piedi non se lascia, batte i piedi, batte i piedi dove va? ciao Anna 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 ciao Grazie a tutti.